Arrestati domenica numerosi membri dell'amministrazione comunale di Zagabria, tra essi ci sarebbe anche il sindaco Milan Bandic. Polizia e pubblico ministero non hanno reso note, come prevede la legge, le generalità degli arrestati, ma tutti i media locali riportano che tra essi c'è il primo cittadino. Le accuse sono corruzione e abuso d'ufficio.